Grazie in particolare a Paolo per questa opportunità. Io appunto parlo da gallerista di una piccola realtà. Nasco tre anni fa in un concept store, uno spazio vicino a Piazza del Popolo, a Roma, in Via di Ripetta, la via che tradizionalmente è dell'arte. E nasco proprio in questo contesto perché ho sempre creduto che le sinergie fossero poi la forza per ovviare ad ogni tipo di problema, di problematica, come ad esempio la situazione che stiamo vivendo. E quindi promuovere l'arte e tutte le forme della creatività è sempre stato il mio obiettivo e ho pensato appunto di collegarlo anche ad altre rappresentazioni proprio della creatività, qual è la moda o anche delle forme di artigianato che abbiamo nel nostro spazio. Quindi credo davvero che per affrontare questa situazione che nessuno avrebbe mai potuto nemmeno immaginare il segreto sia proprio di cercare un successo non individuale ma assolutamente sinergico. E quindi da qui penso sia dovuto trovare l'obiettivo e la ricerca di una soluzione. Nel mio contesto appunto promuovo l'arte e soprattutto l'arte dei giovani artisti. Quindi proprio perché per dare una base pratica a quello che l'arte poi, per quello che l'arte necessita. In senso tutto quello che è la produzione artistica di base deve avere poi qualcuno che la sostiene e la promuove. E quindi la parte commerciale che a volte è anche considerata quella più venale e molti artisti cercano di evitare, di scansare. E poi quello che permette che l'arte continui ad esistere. E questo nel mio piccolo è quello che cerco di fare. Grazie mille. 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 Grazie.